Siamo nello stand di Emotiva, Monaco di Baviera e presentiamo il nuovo preamplificatore Home Cinema a 16 canali che si chiama RMC1. È un amplificatore modulare, permette di inserire fino a tre slot di espansione che potranno essere ad esempio un modulo streaming, canali aggiuntivi per sfruttare il nuovo base management di Dirac. La macchina appunto utilizza Dirac come sistema di correzione. Sempre a Monaco in anteprima vediamo anche il nuovo RMC1L che non è altro che l'RMC1 a cui sono stati rimossi gli slot di espansione, quindi una macchina più economica e più accessibile. Al di sotto che stanno guidando questi impianti a 16 canali vediamo due amplificatori della serie XPA, anche questi sono modulari, nel senso che sullo stesso telaio è possibile montare fino a sette diversi moduli di amplificazione. La serie sviluppata nella serie XPA è la serie DR2 che invece utilizza moduli di amplificazione che arrivano fino a 600 watt. I prezzi? L'RMC1 ha un listino in Italia pari a 6.000 euro, l'RMC1L dovrebbe uscire a una cifra intorno ai 4.000 euro. Per quanto riguarda la serie XPA, un due canali parte da 1.299, un cinque canali costa intorno ai 2.000 euro e un sette canali costa 2.799 euro. Disponibilità? Disponibilità, questa è tutta questa serie disponibile, la serie 1L sarà disponibile da settembre.